Siamo qui presso il Bosco L'Hotel Aleph di Roma per questo importante seminario per l'abbecedario della politica. Ma che cos'è questo abbecedario della politica? Cioè la capacità che noi come associazione di cultura politica e il cantiere pretendiamo a noi stessi per tirare fuori un significato, un senso alla politica. A cominciare dalle parole, dalla parola, la parola data, la parola ricevuta. Ecco che ci siamo riuniti anche con esperti del settore della lingua italiana e linguisti filologi per discutere di come sta cambiando il linguaggio politico e qual è l'origine della lingua italiana e quali sono le prospettive. Ovviamente insieme a me c'è qui l'altro socio fondatore del cantiere che è Carlo Prinzofer e vorrei che lui pure dicesse due parole su questa iniziativa che ci vedrà impegnati per molto tempo. Ma intanto è un tentativo, insomma spieghiamo bene, se no potremmo passare per arroganti e presuntuosi. Tentativo di ricostruire alcune parole chiave che ritivano significato al dialogo, perché oggi tutti usano questa parola confronto che diventa una lotta tra due che sembrerebbe quasi una gara a chi dice più cose. Il problema è che dietro queste molte cose che si dicono in realtà non c'è niente, non ci sono più significati. Perché? Che si usano parole in maniera impropria e quindi oggi bisogna ripartire proprio dall'abbicettare la politica, cioè che cosa significa questa parola. E soprattutto questo permette all'interlocutore di chiedere ma perché la usi? Non sarebbe meglio usare questa altra parola? Perché noi diciamo nella nostra ambizione, che però è un'ambizione umile, non è un'ambizione modesta. E fa un esempio tra umiltà e modestia. Esatto, tra umiltà e modestia. La modestia in genere è falsa modestia. Quando uno per far finta di essere umile dice modestamente ho vinto il primo Piemio. Dice che grande umiltà che dimostra. L'umiltà invece è una cosa diversa, è legata proprio a uno sforzo quotidiano, anche di... Anche una forza interiore. Chi è forte è umile. Normalmente chi è debole pretende invece di essere forte attraverso quello che tu dicevi, falsa modestia. E quindi abbiamo in mente magari domani di scrivere questo abecedario per istituire proprio nel dibattito culturale, prima che politico. Anche per arricchirlo un pochino, diciamo è veramente scarno. Cioè la scolosi dice un senso non ce l'ha. Oggi questa politica politicante un senso non ce l'ha. Le parole che vengono espresse sono spesso parole vuote perché a queste parole non seguono né azioni né pensiero. Sono parole che risuonano. Diciamo anche meglio, cioè l'azione politica oggi è difficilissima da capire attraverso un linguaggio che non è più in grado di spiegare niente. E quindi quando vorrebbero spiegarci qual è la loro azione politica io sfido chiunque a capire qualche cosa come la dicono. Cioè la dicono in una maniera che è difficilissimo capire perché non sanno nemmeno di che cosa parlano. Infatti noi si siamo messi a studiare, cioè nel cantiere... Umilmente. Ci mettiamo a studiare, siamo qua con i libri in mano e prendiamo appunti. Esattamente. Un saluto a Liberi.tv Grazie, veramente grazie.